Sprunchy è andato in gita scolastica e ha avuto un incidente. Ume, dove siamo? Aspetta Oddworld, è un parco giochi normale. Sono molto arrabbiato. Anche io rompiamo tutte le regole. Prima no persone alte sullo scivolo. Andiamo. Controlla la tua altezza. Sono bravo. Sei troppo alto. Anche tu. Veloce Popcat. Fermarsi lì. Veloce Popcat. Che? Scivolo. Andiamo. Ce l'ho fatta. Stanno cercando di infrangere le regole quindi li infrangerò. Cassimo no scivolando tre persone alla volta. Andiamo. Yay. Ehi, siamo bloccati. Mi dispiace di aver mangiato troppo. Tempo di scivolare. Andare. È ora di vendicarsi. Lame assassine sono aggiunte. No, God, please, no! No, no! Cosa è questo? Lui, mio amico, è morto. Promettimi, Popcat, che infrangerai tutte le regole. Ok. Di notte. What is that? Ehi, dove sono? Ti trasformerai in un amico arcobaleno. Perché hai infranto le regole? U.M. Cosa è questo? Voglio tornare da mia mamma. Essere spaventato. Lingua o no lingua? Lingua. Ho una grande lingua. Verde o compro auto? Verde odio le auto. Spaventoso o occhi sporgenti? Sporgenti. Sembro male. Gambe lunghe o braccia? Questo è questo. Nice! Non molte regole rimaste. Prossimo no bullismo. Nuba. Per favore smetti di fare il bunno con me. Mai sarai punito. Ah, ah. Vuoi essere bullizzato? U.M. Cane adesso. Sinù bullizzami adesso. Ok, siamo vicini. Ora bullizzami. I miei pantaloni. Prossimo no saltare sulle persone. Ok, è ora. 3, 2, 1, vai. Ops. Prossima regola non scivolare dallo scivolo abbandonato. Ok, facciamo questo. Non puoi infrangere un'altra regola. Prendilo. 3, 2, 1. Scendi. O mai. Un me. Ok, quindi questo si chiama scivolo abbandonato. Non sto scivolando. Vieni qui. Mio Dio è vivo. Ora tocca a me. La mia testa. Oh, prossima regola infranta. La prossima regola è non scavare. Proviamo. Wow, c'è qualcosa. Vediamo. Cosa è questo? Un condotto. E distruggerò questo ragazzo che sta infrangendo le regole e lo trasformerò in giocattolo. Aspetta cosa? Usciamo da qui. Prossimo non per soli grassi sullo scivolo. Lasciami provare. Sei a posto. Oh, devo mangiare. Bene. Mio Dio. Non puoi andare. Ah, grazie per questa informazione. Ma lo farò. Stop, hey, stop. Scivoliamo. Scivoliamo. Siamo bloccati. Veloce. Ehi, non scivolare. Andiamo. Ce l'ho fatta. Ya. Sta infrangendo troppe regole. Abbiamo bisogno di rinforzi. No. Entra. Cosa è questo? Vento o casa? Vent. Ho dei vent sul mio corpo. Piccoli occhi grandi. Grandi. No, non è bello. Essere viola o essere rosso? Viola. Solo ho sposato. Solo non mi piace la gente. Oh no. Male o bene. Male perché odio la gente. Sono diventato cattivo. Solo quattro regole rimaste. Mi chiedo cosa sia successo dopo. Prossimo non puoi salire sullo scivolo dal lato sbagliato. Proviamo. Non può essere così. È difficile. Entriamo. Oh no, lui è dietro di me. Veloce. Perché è così lungo. Sono così vicino. Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento. Colpisci me. Mio Dio. Scappa. Perché lo hai lasciato uscire? Mi dispiace. Ce l'ho fatta. Prossima regola fatta. Ok, prossima. Non accendere vecchio roller coaster. Ok, non sembra sicuro. Lo testerò. Mio Dio è morto. Proviamo ora. Vai. Si sta distruggendo. Mio Dio. Sento qualcosa di brutto. Mio Dio è stato duro. Ma siamo vivi. Ok, sono due regole rimaste. No cappelli e occhiali sul parco giochi. Sono pronto. Non puoi andare. O cosa? Sto chiamando la sicurezza. Ce l'ho fatta. Facile. Aia. Ultima regola non toccare Oder. Oh no. Unne ciao. Vieni a baciare. Perché stai infrangendo le regole? Ho infranto tutte le regole. Ora non ce ne sono più. No, c'è l'ultima regola. Non distruggere il parco giochi. Mio Dio. Non preoccuparti. Lo farò. No. Grasso io. Sono pronto. Fermarsi. Ah, ce l'ho fatta. Cosa hai fatto? È la tua fine. Aspetta cosa? Sto per cambiarti ora. In cosa? Rosa. Unne. Blu o rosa? Penso rosa. Oh no. Magro o grasso? Magro. Non sembro bello. Occhi alieni. O essere un mostro. Alieno. Cosa è quello? Ragazzo o ragazza? Ragazza. I miei capelli. Alto o corto? Alto. Ok, denti rotti o brillanti? Brillanti. Sembro disgustoso. Cosa ci hai fatto? Te lo meriti. Se vuoi ottenere una migliore evoluzione, devi trovare gli scivolis. Trovalo per diventare mostri del mondo strano. Andrò per primo. Lo vedo. Ehi, fammi entrare. Controlla prima la tua taglia. Ok. Sei troppo piccolo. Cosa hai detto? MM così buono. Andiamo a scivolare. Wow, sono così grande. Ok, vedo il mio. Io prendo per primo. No. No, sto uscendo dal vento. Salta. Sì. Torno indietro. El torna indietro. Ah, ora cosa? È rimasto scioccato. Sì, è l'ultimo. Ho ottenuto l'evoluzione. Ok, vedo il mio scivolo. Andiamo lì, qui. Tornare. Devo spaventarlo. Salta. Eccolo. Sembro un Hulk. Capo, siamo pronti. Capo, siamo pronti. Sì, sei pronto. Vai alle tue porte. Andiamo. Dieci anni dopo. Sono passati dieci anni da quando ho iniziato a lavorare come amico arcobaleno. Vieni qui. Mai. Facile. Aspetta la polizia di Popcat. Cosa? Sei arrestato. Vieni con me in prigione. Ok, valutiamo questi criminali. Per favore datemi un buon. Era un insegnante ma ha iniziato a picchiare i bambini e ora sta perdendo il lavoro. I bambini vanno a lezione. No, mai. Questo è illegale. Come insegnante. Male. Puzza. Lasciami sentire. Molto male. Era un bambino odiato prima. Sua moglie l'ha lasciato. Ok, qui stai disgustosamente triste. Male. Vai in prigione. Sfigato. Il prossimo. Ciao, sono bella. Lei odia suo marito perché stanno perdendo il lavoro a scuola. Ti odio così tanto. Eh, questa era strana. Ma se lui fa cose cattive, puoi odiarlo. Blue. Era la migliore insegnante fino a quando non si è innamorata del signor Puzzolente. Lei vuole combattere il signor Puzzolente. Sei sicuro di questo? Sai cosa? Ti sto dando un sì. Quindi vai al bene. Ora è il momento per persone più difficili. Ok, vediamo cosa hai fatto. Stava cercando di distruggere il mondo strano ma è diventato uno di loro. Da bambino scelse lo scivolo rosa e si trasformò in rosa. Sto per cambiarti ora. In cosa? Rosa. Voglio braccia lunghe. È stato buttato nella lavatrice e si è trasformato in rosa a causa di ciò. Tutte queste cose non sono colpa tua. Ma comunque hai mangiato i bambini. Così male ha... Cosa? Rosso. Se non aiuterà l'amico rosso allora gli taglierà le gambe e le darà a un altro bambino. Questo è triste. Bene. Aspetta quindi dove dovrei andare? Penso. In prigione. Ok il prossimo. Per favore tutto bene. Stava cercando di infrangere tutte le regole nel parco giochi e è stato punito dall'amico rosso. Era bloccato nel corpo dell'amico verde per tutta la vita. Oh, what are you talking about, man? Era permanentemente cieco perché in passato guardava troppo il sole. Aspetta sei cieco. E hai mangiato anche i bambini essendo cieco. Sì. Quindi vai a letto. Cosa? Ciao ciao. Prima di essere viola sembrava Jenna con i capelli biondi. Nice. Era bloccata in un costume viola per sempre. Si sposava con le persone e poi le uccideva. Era la criminale più pericolosa di tutti i tempi. Aspetta perché sei la più pericolosa. Perché posso essere grande. Cosa? Vai rapidamente al male. Mio Dio. Ok, l'ultimo rosso. Mettimi bene o ti ucciderò. Ehi, fermati. Stava catturando i bambini nel suo parco giochi per trasformarli in giocattoli e avere più soldi per il mio mondo. Ragazzi venite veloce. Qui. Questo è molto male. Rosso. Aveva mille bambini che volevano trasformarsi in giocattoli nel suo seminterrato. Vi trasformerò in questi giocattoli. Per favore no. Ma prima ho bisogno di più bambini. Cosa? Questo è estremamente male. Tu stai andando in prigione. Per favore no. Ok, quindi ora si... Guarda fino alla fine per vedere la quinta evoluzione lampo dell'amico arcobaleno. Fratelli. Sì. Dobbiamo entrare in questo parco giochi e scivolare dalla diapositiva estrema. Controlla prima la tua altezza. Facile. Non puoi andare. OMG. Bene. Io accanto. Vai. Ottimo. Iai. È così triste non poter divertirsi con loro. Oh, ragazzo incondotto. Non so, sembra un po' suspect. Hai qualcuno mi ha colpito. Oh, primo ragazzo. Devi usare il nostro parco giochi. Aspetta un attimo. Scegli uno. Voglio il verde. Andiamo. Scivolo. Divertiti a... Dove sono? Faccia da anatra o piccoli? O no. Odio i cetrioli sott'aceto. Non è divertente. Inferno o alto? Alto. Non è buono. Vecchio o giovane? Giovane. Sono un brutto bambino. Sbalzo. Sono troppo spaventoso. Fuoco o essere buono? Buono. No. Voglio essere buono colpa mia. Non cattivo. Cosa mi hai fatto? Ah, questo è solo il tuo primo livello. Fammi entrare. Vai. Fratelli. Fratello. 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 Mi avete lasciato prima del tempo per la punizione. Ragazzi, volete scivolare? Ume cosa? Questo non sembra buono. Non mi interessa. No. Ah. Dove sono? Slime. O no, ho dell'acqua in bocca. Sono la regina. Blu o verde? 100% blu. Oh my god! Wow, sembro blu. Grande o piccolo? Grande. Nessuna differenza. Pericoloso o no? Pericoloso. Non voglio sembrare così. Carino o brutto? Brutto. Carino. Tempo di teletrasporto. Sì, Shrek. Denti di squalo. Arancione o senza occhi? 100% arancione. Aiutami. La mia testa. Mani di Gekko. O faccia spaventosa. Gekko. Abbaio. Lava o acqua? Lava. Ok, sembro spaventoso. Roblox o mani? Mani. Oh ma... Wow, wow. Grassoccio o magro? Cosa è questo? No. Occhi grandi. I miei occhi vedono tutto. Oh my god! Viola o blu? Viola. Mi piace. Mani lunghe. E gambe lunghe. Ok. L'ultimo. Vivi nelle fogne o in un McDonald's? Fon. Andiamo. Oh no, ci ha cambiato per sempre. Mamma. Mamma. Oddio. Che cos'è questo? Ci cambia. Sì. Sembri brutto. Dove sono i nostri figli? Dieci anni dopo. Primo giorno di scuola. Ah, sembrano strani. Cosa? No, per favore. Per favore no. No. Per favore. È ora di passare al secondo livello AA. Andiamo. Sento qualcosa. Ah, ora che? Wow, è stato pazzesco. Dobbiamo arrivare al livello successivo. Aspetta. Se volete il prossimo livello, dovete trovare le porte. Oddio. Lo troverò io per primo. Eccoli qui. Entriamo. Sto avendo problemi. È stata una cattiva idea. Muscoli grandi o capelli di Chad. Muscoli. Gambe lunghe o testa grande. Gambe lunghe. Forte. Forte. Sono troppo grande. Essere un giga Chad o avere la mano più grande. Gigachad. Aiutami. Denti affilati o grasso. Sono troppo forte. Devo essere grasso. Grande cervello. Sono in forma. è il mio turno. Penso che sia qui da qualche parte. Mi dispiace. Eccoli qui. Aspetta. Questi non sono i miei. Muoviti dal mio cammino. Tempo di entrare. Eccoli qui. Oh no. È ora di entrare. Sono pronto. Ah sei l'unico noob che non ha avuto l'evoluzione. Non riesco a trovarlo. Meglio fare presto. Agli fratelli. Aspetta vedo. Eccoli qui. Ah ora che. Metti mi piace e iscriviti e domani ti sveglierai con così tanti Robux. Oh no. Oh no. Oh no. Ehi. Cosa sta succedendo? Insegnante. Mi dispiace. Vieni alla lezione. Adesso. Ok. Ti diamo A e o ti caccio dalla scuola. Figlio. Vieni prima. Ciao papà. Era estremamente intelligente. Odiava gli studenti stupidi. Figliolo. Chi pensi che sia stupido? Loro. Bravo ragazzo. A e. Amava suo padre perché gli dava A e tutti i giorni. Questo è così dolce. Prendi questo A e. Grazie papà. È stato trattato meglio perché suo padre è un insegnante. Non è vero. Io ti tratto allo stesso modo. A e. Ok. È il momento della parte negativa. Aveva la rabbia. Aspetta cosa. Cosa mi hai fatto? Cattivo. Era sempre il più alto nella stanza. Io sono il più alto. No io. Non puoi essere più alto di me. Cattivo. La sua ultima evoluzione sarà la cosa più spaventosa che abbiate mai visto. Mostrami. Non posso. Ma posso spaventare? No. Mi hai spaventato. Ti caccio dalla scuola. Ah. Chi è il prossimo? Per favore non io. Vieni blu. Era disgustoso e le ragazze scappavano da lui. Ciao ragazze. Brutto. Tu. Smettila di spaventare le nostre studentesse. Cattivo. Il suo alito uccide le persone. Mostrami. Disgustoso. Non sa leggere. Il suo cervello è piccolissimo. King King King. Ah. Che cervello piccolo. Calcio. Ne sono rimasti solo due. È il più veloce della scuola. Fammi vedere. Ok. È davvero veloce. Bene. Mi piace a E. Grazie. I suoi voti sono FFFF e F. Bravo. Per questo motivo. Devo darvi un calcio. È diventato un bullo dopo essere stato vittima di bullismo. Oh no. È troppo. Calcio. Ultimo. Sembri un nerd. Mi dispiace. Ah. Fermati per favore. Era estremamente solo. Era estremamente stupido. Oh my god. Non piaceva a nessuno e non aveva amici. Calcio. Aspetta perché. E siamo chiusi. Il poliziotto sta dormendo. È ora di uscire. È vero. Chiave. Tempo di aprire. Sono scappato. Trova il mio adesso per favore. Ok. Oh no. Sta dormendo. Tornate indietro. Ma... Apri velocemente. Sì. Sono due rimasti. Non scapperai dal carcere. Oh no. Sta arrivando. Ehi. Ecco la chiave. Fermati adesso. Criminale. Ok. Calma. Ah. Ti ho preso. Salto di popcat. Ok. Usciamo. Ok. L'ultimo. Dove è la mia chiave? Ehm. Guarda nei luoghi. Bro. Usciamo. Ah. È tempo per il prossimo livello. Ok. Siamo grandi. Ma come possiamo ottenere la prossima evoluzione? Ehm. Cos'è questo? Se vuoi una nuova evoluzione devi raccogliere tutte le mascotte. Sono davvero difficili da trovare. In bocca al lupo. Aspetta un attimo. Aspetta cosa? È il momento di trovare tutte le mascotte. Vieni da papà. Ah. Sembrano strani. Oh. Ho dolore ma l'ho presa. OMG. Vogliamo questa evoluzione. Qui. Sono troppo grande. Un'ora dopo. Finalmente. Ok. Andiamo. Qui. L'ho preso. Oh. 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 Oh mio dio. La mia evoluzione è spaventosa. Oh mio dio. Eccolo qui. Se vuoi combattere contro di me. Facile. Wow. Ok. Ho la sfida più difficile. Ah. Noob. Non hai l'evoluzione. Ah. Noob. Non hai l'evoluzione. Ah. Non hai l'evoluzione. Ehi. Fermati. Wow. Prendilo. Ehi. Prendilo. Mai. Come? Come? È facile. Salta semplicemente. Salta semplicemente. Ah. Facile. L'ultimo salto. Wow. Sembro fantastico. Il giorno dopo. Creature selvagge stanno distruggendo Brookhaven RP. Sì la polizia dovrebbe fare qualcosa. Quindi non uscire. Ehi. Dovremmo divertirci sul parco giochi. Sivolo. Sei arrestato. Cosa? Il giorno dopo. Ok. È il momento di giudicarvi. Stava catturando le persone alle porte e poi le distruggeva. Stava schierando mostri dalle sue porte per uccidere le persone. Wow. Ha preso mille anni di carcere e poi è fuggito. Are you serious right now bro? Ok. Sono fuggiti dal carcere trovando tutte le chiavi. Sono diventati da neonati a mutanti. Ok. Il mio verdetto è. Devi trovare l'amico rosso e distruggerlo per quello che ti ha fatto. Cosa? Grazie. Vecchi amici arcobaleno sono noiosi. Abbiamo bisogno di qualcosa come loro. Bambini. Entrate. Wow sono il primo. Ciano o rosso. Due occhi o uno. Due ovviamente. Bello. Cesta di banana o normale. Wow. Prossimo denti o un dente. Un sacco di denti. Bello. Scia blu o nessuna scia. Lingua lunga o cuore. Cosa? Dovrebbe essere lungo. Bru. E l'ultimo. Coda o spine. Coda. Usciamo. Sono il prossimo. Gambe o ali. Ali. Wow. Occhiali da sole o occhi. Occhi ovviamente. Che diavolo. Prossimo elica di elicottero o la cosa. Elica. Wow. Testa di uomo o testa di gecko. Gecko. Wow. Giallo o rosa. Giallo. Wow. Sono giallo. Sono il prossimo. Cosa diventerò? Sedia del re. Wow. Sono il re. Corona o cappello. Smetti di cappello. Oh my god. Solo corona. Un occhio o caramella. Prossimo. Nubo o acqua dalla bocca. Acqua. No, no, no. Ok e prossimo. Blu o cacca. Blu. Sono pronto. Sono il prossimo. Gambe da ragazza o dottore. Gambe da dottore. Figo. Cosa è questo? Sto scegliendo questo. Figo. Testa rossa o faccia felice. Testa rossa. Bru. Non posso vedere, non ho occhi. Wow. Prossimo cravatta o scarpe. Cravatta. Pistola o questa cosa. Questo. Ok andiamo. Sono il prossimo. Ratto o testa. Testa. Bello. Seconda testa o uccello. OMG. Testa o cacca. Terza testa. Quarta testa. Wow. E ora. Occhio colorato. Entrambi. Bello e ora gli occhi. Bello. E l'ultimo. Carrello. Sono il prossimo. Dottore. Capelli bianchi o normali. Bello. Barba o barba. Questo. Bello. Occhiali o no. Occhiali. Camicia. Oddio. Mancano solo i pantaloni. Sono pronto. Ok sono il prossimo. Verde. Denti o dente. Dente. Forse denti. Lingua o no lingua. Occhi piccoli o grandi. Questa trama. Verde. E corpo lungo. Oh my god. Occhi grandi o piccoli. Grandi ovviamente. Prossimo viola o giallo. Viola. Braccia lunghe o corte. Lunghe. Wow. Gambe lunghe o corte. Lunghe. Wow. Molti denti o un dente. Molti. Wow sono perfetto. Sono l'ultimo. E ero nel capitolo 2. Quindi prima testa di Gekko. Oh cane. Gekko cos'è questo? Occhi grandi. Coda verde o arancione. Arancione. Arancione o viola. Arancione. Pelo arancione. E ultimo grandi denti. Wow. Ok. Siete tutti pronti e ora facciamo fuori alcuni di voi. Baby blue. Il prossimo. Giallo. Ma vecchio. Teste nel carrello. Sapete una cosa. È ora del mio preferito. È ora per l'amico rosso. Prossimo amico arancione. Giallo. Ok ora è il momento per i ragazzi più grandi. Blu sulla sedia. Wow quindi ora. Viola. Sei così alto. Fa male. E l'ultimo. Verde. Non mi piaci. Tu e tu. Ma tutti voi andate al capitolo 2. Aspetta. Tu e la tua squadra siete arrestati. E ora sarete tutti valutati. Iniziamo con te omg. Prima di essere ciano è arancione ma l'amico rosso lo ha cambiato. Ah cambiamo te. Bello. Questo è buono per me. Ha mangiato l'amico verde e poi lo ha vomitato. Giorno normale negli amici arcobaleno. Ah ho fame. Per favore no. Giorno dopo. Get him out. This is gross. Qui. Qui. You ok? Gli amici arcobaleno lo hanno spaventato ma lui li ha distrutti. Non puoi scappare ora per dentro. Ha una cosa. Non ho sentito nulla. Omg ha mollato così forte devi essere spaventoso. Ti stavi seguendo sul gokart. La sua nascita alla morte è stata molto triste. Ok era strano. Stava cacando ovunque sulla mappa ed era disgustoso. Cosa sta succedendo? Sto solo facendo la cacca. Aveva una famiglia che lo aiutava. Mostrami la tua famiglia. Guarda dietro di te. Dolce. Per me sei una brava persona e vai al bene. Lanciava persone da un'altezza di 100 metri dal suolo. Non saltare finché non trovi un posto sicuro dove terravi. Wow è stato molto brutto. Aveva dei bambini nel suo nido che erano suoi figli. Wow penso che sia il momento. I miei bellissimi bambini. Può gliciare e portarti fuori dalla mappa al nuovo capitolo. Ha rapito tutti gli amici arcobaleno nel suo nido e li ha mangiati. Aspetta cosa? Cosa stanno facendo Bru? Distruggiamoli. Ah facile. Che diavolo. Porta i giocatori nel suo nido e li spaventa. Wow bello spavento. Ma sei cattivo. Dovevi raccoglierli tutti ma poi hanno creato un nuovo mostro. Siete tutti raccolti quindi cambia in mostro. Che diavolo. Stavano diventando ultra grandi e volevano cambiare la città. Aspetta. Che cos'è questo? OMG questa è un'apocalisse. Erano ovunque e non potevi muoverti. Per me sei la peggiore persona. Ciao. Ora per il prossimo. Era una persona normale ma lo hanno cambiato. E' stato trasformato in un supereroe e ha iniziato a combattere con il giardino di Bambam. Ragazzi mettete mi piace e iscrivetevi e vi sveglierete con uno miliardo di rogs. C'è successo più di quanto sia successo nella mia intera vita. Si è seduto sulla sedia del re e ha fatto risorgere un esercito di amici blu. Siete il mio esercito. Conquisteremo il mondo. Wow incredibile. Si è seduto sulla sedia del re ed è morto perché era inutile. Sono. Per me sei buono. Ha trasformato i bambini in amici arcobaleno prima di diventare un mostro. OMG bro. Questo è male. Si è accidentalmente trasformato in un mostro. Che diavolo. Ha mostrato le facce di ogni nuovo e vecchio amico arcobaleno e tutti l'hanno vista. Ok vediamo il tuo volto. No per favore. Cosa? Bello. Prossimo arancione. Prossimo blu. Ancora. Prossimo verde. Vediamo. Cielo spezia. Pensavi che ti stessi sentendo. Prossimo rosso. Bruscello. Perché? Stavo solo facendo un video. Prossimo. Tante teste. Cosa? Nonno. Eri teste per tutto questo tempo. Allora prossimo viola. Amico. Kaizenat ti ama. Amico rosa. E ultimo ma non meno importante. Ok prossimo. Ha rubato i colori da ogni ragazza amica arcobaleno. La sua ragazza ha perso i suoi colori e lui ha sacrificato i suoi colori per salvarla. O.M.G. Era bellissimo. Rosso vai al bene. Prossimo. Quando era più giovane non poteva smettere di crescere nel sonno e poi si è trasformato in un amico viola. Buonanotte figlio. Buonanotte mamma. Non mi sento molto bene. Figlio. Cosa sta succedendo? O.M.G. Wow è un bambino strano. Ma va bene. Era nel condotto dell'aria ma qualcuno lo ha rubato e cambiato. O.M.G. Spaventoso. Dopo il cambiamento stava catturando persone dall'acqua nel nuovo capitolo. Wow è figo. Qualcuno lo ha messo nel water ed era bloccato lì. Che diavolo. Dopo che un ragazzo lo ha aiutato è diventato famoso. Wow. Bene per loro. Aveva braccia così lunghe che rapiva le persone dall'altra parte della mappa. Questa è un'abilità molto buona. Per me sei buono. Aspetta dove è il prossimo. Vediamo cosa hai fatto. Ti faceva prendere un colpo di paura quando andavi nella direzione sbagliata in carta. Wow. Ok prossimo. Ha creato una stanza segreta nel pavimento. Aspetta quale stanza segreta. Hai installato Acre ed era troppo veloce. Sono troppo lento. Ho bisogno di girare Acre. Ha mangiato i due e tutti hanno visto quello. Hai mangiato i due cosa. Grazie per avermi ricordato che è ora di cena. Era male. Mangiava troppo ed è esploso. Questo cibo è così buono. Aspetta. Non mi sento così bene. Per me sei una persona cattiva. Mi dispiace. Prossimo. È diventato troppo grande ed era più grande della mappa. Cos'era questo omg? Ha distrutto accidentalmente la ruota panoramica. Wow bella ruota. Wow questa è accesa. La sua danza era accesa. Mostrami. Ha scaricato Acre ed era troppo alto. Ok bro. Non tutto andava bene. Ma nel complesso sei una buona persona. Ok prossimo. Nonno. Era il papà degli amici arcobaleno. Ha preso un colpo in testa e si è incastrato sulle montagne mosse. Wow era una buona scena. L'amico giallo lo ha portato nel suo nido e ha cercato di mangiarlo ma il nonno lo ha ucciso. L'amico giallo mi ha rapito qui. È ora di vendicarsi. Va bene. E mi sei un buon nonno. Ok ora per il prossimo. Tamataki. Stava giocando con gli amici arcobaleno ed è stato preso dal giallo. Omg sei un originale. Ha provato a spaventare gli amici arcobaleno ma ha avuto uno spavento e è morto. Ti ucciderò. Vieni. Ah prendi la L. Facile. È stato tagliato a metà dall'amico rosso e poi gli ha aggiunto una nuova testa. Tamataki. Sei troppo dolce. Andare al bene. Si sono uniti agli amici arcobaleno e hanno avuto un colpo di paura. Omg. Strano. Sono tutti morti a causa loro. Hanno fatto una lotta di spaventi e il giardino di Bambana è morto. Ok ragazzi. Gli amici arcobaleno sono migliori. Mi dispiace. E penso che l'ultimo sia qui. Wow box omg. Erano bambini che cantavano prima ma si sono trasformati in mostri. Ah questi ragazzi sono incredibili. Ora li cambierò. Hanno iniziato a cantare una canzone che ha distrutto gli amici arcobaleno. Dammi i tuoi figli. No. Lo sento. Il giorno dopo. Finalmente ti ho trovato. E ragazzo ti adotterò. Misuriamo. Sei quasi come una modella. Faremo un sacco di soldi da te. Guarda cosa ho trovato. Cos'è questo? Non riesco a respirare. Prenditi cura di lui. Sorella. Ti odio. Cosa? Sono nella sabbia. Aiuto. Questo? No. Per favore. È il mio incubo. Ciao. È troppo. No. Per favore. Nuah. Non sarai mai alto come me. Non so nuotare. Tocco a me. Aiutami. Non ho ossigeno. Oh my God. Lo squalo sta arrivando. Dov'è mio figlio? Basso nu. Dobbiamo fare un'operazione in fretta. Morirà. Non mollare. Stanno facendo l'operazione. Cos'è questo? Blu. Wow. Spaventoso o carino? Carino. Oh no, no, no. Sono spaventoso e brutto. Sta morendo. Magro o grasso? Magro. Lingua lunga. Guarda, mi sto peggiorando. Denti paurosi. Bello. Calvo. Occhi. Un occhio. Sembro disgustoso. Mamma, sono tornato. Stai diventando più alto. Stai diventando più alto. Quasi morto. Misurati. Oh my God. Oh, hell no. Ah. Sei brutto. Cinque anni. Ah, sono vecchio. Tempo di trollare. Happy. Il prossimo è l'orso. Oh my God. Cosa è successo? Sentò qualcuno. Oh no. Mi dispiace. Stai andando al riformatorio. No, per favore, sorella. Ah, ciao. Sfigato. Mio Dio, non sembra male. Ah, così debole. Oh my God. Forse no. Ciao. Sfigato. 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 Oh no. Ah. Get over here. Ah. And coming. Ah. Non so nuotare. Aiuto. Ti annegheremo. Oh no. M, dove sono? Stanze nascoste? Mio Dio, devo nascondermi. What? Tempo di mangiare. No. M, devo uscire. Mangiami, sono debole comunque. Non posso aiutarti. Cosa? Sei tornato. Sì. Iscriviti e metti mi piace se vuoi Robux gratis. No, God, no. Meanwhile, torneo per il miglior modello. Non può essere così. Ah, perdenti. Adesso mamma. Ah, ho vinto. Salta oltre questo per essere più alto. Sì. Oh, my God. Oh, vero. Andiamo. Wow. Bello. Bello. Wow, wow, wow. Noni. Cosa sta facendo? Non può essere così. Ragazzi, andiamo. Vieni qui. Sarò più alto di te. Arr, no. Ah, hai perso il razzo. Ah, hai perso il razzo. Va bene capo. Va bene capo. Oh, my God. No. Ah, andiamo. Cos'è questo? L'ultimo. L'ultimo. Oh, my God. Nani? Wow. Sorella, dove sei? Perché? Ah, non può essere così? 15 anni. Ho perso le gambe. Sei ancora piccolo. Ma ero alto. Sta mentendo. Non lo sono. Stai andando in prigione. Non ti vogliamo più. Torna se sei più alto. No, per favore. Ah, piccolo prigioniero. No. 25 anni. Non mi batterai mai. Piccolo. Facciamo un torneo. Ok. Tempo di saltare. Oh, my God. Ah, sono più alto di te. Cosa? Ehi. Yes. Cos'è questo? Questo torneo è solo per quattro persone. Ciao. Wait a minute. Ehi. Abbarato. Non mi interessa. Inizio. L'ho preso. Ahi. Ehi. Ehi. A. Prossimo difficile. Prima io. Ah, o la cosa. Cosa. An. Grazie per il busto. Oh, my God. Superare la linea. Attraversare la linea. No. Ho vinto. Ah. Cosa? Perché? Non ci posso credere. Non può essere così. Oh, no. L'ho ucciso. Dove sono? Dio. Oh, ciao, Popka. Oh, mio Dio, ciao. Stava aiutando la madre malata. Ha mangiato il suo migliore amico. Questo secondo non è quello che pensi. Era un bullo. Ok. Prendi il mio potere. Sono fuori. Grazie. Primo. Vediamo cosa hai fatto. Si prendeva cura di sua madre. Wow, è bello. Aveva poteri speciali. Anche questo è bello davvero. Grazie. Stava tirando i bambini nella bocca da irazione. Mangiava bambini grassi. Oh, no, no, no. Male. Vai qui. Prossimo. Tipo Verdei. Ehi. Catturava e mangiava bambini. Era troppo alto e colpiva lo stipite della porta. Distruggeva tutti i giocatoli. Si innamorava di mamma gambe lunghe. Wow, quest'ultimo. Strano davvero davvero. Era cieco. Quindi non mi vedi? Sì. Vai qui, non posso metterti nel rosso. Ehi, è rosso. Non vedo. No. Dai. Ultimo. Il mio allenatore. Ciao per favore paradiso. Amava i cani. Era il più veloce del mondo. Rubava scarpe e ci metteva del TNT. Ehi, è male. Mangiava i partecipanti per vincere nelle competizioni di corsa. Anche questo è male. Amava i giocatoli. Devo mandarti in paradiso. Grazie. No, ero cattivo. Tu sei il mio allenatore. Ma ero cattivo. Non farlo. Qui è il mio posto. Bambini, questo è il miglior parco giochi dell'universo. Venite a giocare. È molto sicuro. Il nostro parco giochi è un grande fallimento edilizio. Guardate. Dobbiamo fermarlo. Non vi ascolterò. Ah, è ora di cambiare alcuni bambini. Il giorno successivo nella vita degli amici dell'arcobaleno. Devo scivolare su di esso. Stesso. Prima controlla la tua altezza. Perché questi bambini sono andati lì senza. Non fare domande stupide. Sono il primo. Oh no. Non preoccuparti. Vai, sei carina. Grazie. Spero di essere carina anch'io. No, non lo sei. Vai sullo scivolo per bambini. Forse qui troverò degli amici. Amiamo Fortnite. Amiamo Fortnite. Amiamo Fortnite. Tempo per lo scivolo. Ho paura. OMG, cosa è appena successo? Non scivolare. Cosa? Ehi, fermati. Qualcosa sta prendendo i bambini. Cosa? Cosa? OMG. Questo parco giochi non è normale. Ehi, uscite tutti da questo parco giochi. È infestato. Cosa? Correte subito. Sicurezza, portatelo via. Cosa? Vai via, ragazzo. Mai. OMG. Esci. Secondo tentativo. Dot mi ringrazia per questa voce fuori campo. Ok, sono travestito. Ciao, controlla la tua altezza. Ok, nessun problema, signore. Oh, sono così vicino. Vai via, noob. Sei troppo piccolo? No. Secondo tentativo. Devo entrare. Cos'è questo posto? Fammi entrare in questo posto. Sì. Forza, scivola più veloce. Ok. Nu, aspetta. Morirai. Ah, bambino. Non può essere così. Ragazzi, smettetela subito. Ah, perdente. Hai paura di scivolare? Facile. Aspetta. Cosa? Non mi schioderò mai da questo. Stai perdendo nella nostra battaglia? Mai. Wow, questo scivolo mi ha fatto diventare alto. E' magico. Cosa? Come? Ora giocherai al mio gioco. Ah. Ok, facciamo un torneo. La prossima diapositiva è questa. Per 10 dollari. Voglio 10 dollari. Puoi andare. Cosa? E' appena morto. Signore, chi ha fatto questo scivolo? Non posso dire. Troppo buono. Ehi, mio turno. Sei troppo piccolo. Ah. Ah, una. La prossima diapositiva è per 1000 dollari e si trova in paradiso. Cosa? Siamo in paradiso. E' 100 volte più alto del precedente. Prima io. Fermarsi. Controllare l'altezza. Ok, lo farò. Puoi andare. Non mi sento così bene. Il mio turno. No. Cosa? Il mio turno. Entrambi non potete andare. Devo arrivare più in alto prima di mia sorella. Aspetta. Cos'è questo? Saltami addosso. Oh. Wow. Sono diventata più alta. Ora su di me. Ok. Ah. Andiamo. Arriverò a questo scivolo. Come faccio a diventare più alto? Guarda dietro di te. Andiamo. Facile. Sparali. Prossimo salto. Prossimo salto. Andiamo. Non puoi vincere. Ok. Il prossimo è sospetto. L'ho fatto. Ah. Andiamo. E l'ultimo salto. Grande salto. Sì. Sei tornato? Sì. Sei a posto. Sì. Sto bene anch'io. Ok. Ora puoi scivolare. Ho paura. Vai. Guardate e abbonatevi o questo tizio sarà nel vostro bagno. Non rischiate. Ma sono vivo. Sì. Oh my God. Anch'io sono bravo. Ok. No. Come fai ad essere vivo? Aspetta. Sei stato rosso per tutto il tempo? Chiamo la polizia. È ora di valutare questi criminali. Volevo solo far ridere i bambini. Catturava le persone nel suo parco giochi dell'orrore aggiungendo delle lame alla fine dello scivolo. Ti sto dando un brutto voto. Era il criminale più pericoloso. Più di Jeff l'assassino. Aspetta cosa? Oh no, Jeff. Cattivo. Ha costruito una base segreta sotto il parco giochi. Dov'è? Fammi vedere. Ha catturato un amico viola e lo stava maltrattando. Non è possibile. È vero? Sì. Vai in prigione per il resto della tua vita. Ah, ora è il momento di controllare tutti coloro che hanno costruito questo parco giochi. Mi ha costretto a farlo. Ha preso i bambini dopo essere scivolati sul parco giochi. Quindi questo è il tuo posto? Sì. Balloon. Wow, funziona. Male. La sua famiglia era in ostaggio e lui doveva fare il suo lavoro altrimenti l'amico rosso li avrebbe distrutti. Non è possibile che abbia la tua famiglia. Sì. Per favore fateci uscire. Per favore. Non è una cosa negativa. Mi dispiace tanto. Divenne estremamente triste e pianse tutti i giorni dopo che l'amico rosso lo catturò. No, non puoi perdere i tuoi colori. Non arrenderti. Bene. Ok, ti lascerò uscire. Ma dimmi come sei diventato viola. E molto molto triste. Ehi. No. Dove è andato? Aspettare. Ciao, Giorgie. Ciao. Vieni qui. Cosa stai facendo? Lasciami in pace. Ti trasformerò in un amico viola. No. Ora ti lascio qui. No, no, no. Cento anni dopo. Sono passati cento anni. Devo uscire da qui. Corri ragazzo. Meriti di essere libero. Ne sono rimasti solo due. Perché stavi lavorando su quegli scivoli? Ho cercato di fermarlo. Era un costruttore del parco giochi e sapeva che era pericoloso. Stava cercando di fermare l'amico rosso, ma l'ha trasformato in questo. Ok, queste due cose sono sufficienti. Darti un sì. Grazie. La sua famiglia lo odia dopo che è andato in prigione. Ok, ti meriti di essere libero amico mio. Vai. Grazie. L'ultimo. Famiglia dell'amico rosso. Era il mio ragazzo, non io. Stavano aiutando l'amico rosso a prendere i bambini al parco giochi. Are you serious right now? Oh wow. Il ragazzo era estremamente cattivo come suo padre. Quindi ha cresciuto questo bambino perché fosse cattivo come lui. Smettila. Rosso. Oh no. Sono diventati tristi dopo essere finiti in prigione. Meritate di essere tristi. No. Vai in prigione. Per favore, no. È stata una giornata molto produttiva. Yono. Sono felice che il rosso sia andato in prigione. Riprendiamo il nostro torneo. Non so se è sicuro, ma costa 10.000 dollari. Oh mio Dio. Chi l'ha costruito? Non è possibile. Non so nulla di questo scivolo. Chi ha costruito questo? Ah, è stato facile. La mia schiena. Oh mio Dio. Non è sicuro. Ma devo farlo. Chi l'ha messo qui? Ma l'abbiamo fatto. È il momento delle ultime scivolate. La prossima scivolata è troppo pericolosa per te, Noob. È per me. Mai. Oh mio Dio. Forse è così. Vogliamo scivolare? Andare. Aspetta. Chi stava facendo questi scivoli? Non sembra sicuro. Scivolare. Ho paura. Oh no. Guarda. È stato distrutto. Non scivolo da questo. Ti arrendi. Ah. Ah bien. Ok. Ok, fallo prima. Facile. Non mi sento così bene. Oh mio Dio. Non so se è viva. Ma fammi provare. Sono ancora vivo. Sono ancora vivo. Ok, la prossima diapositiva è super pericolosa. Solo L1% sopravvive su questo scivolo. Ok, vado io per primo. Andiamo. Ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Non posso crederci. Ok. Tocca a me. Jenna. No. È a morta. Perché abbiamo iniziato tutto questo? Aspetta, non riesco a vedere. Ti unirei a lei. No. Sono morta anch'io. Oh mio Dio. Dove sono? Dimmi. Sei morto. Ora devi votare queste persone per tornare sulla Terra. Chi è il primo? Adamo. Sì. Stava diventando troppo forte. Ah. Smetti di sollevare. Sei troppo grande. Male. Ha fatto il braccio di ferro con un Superman. Oh my God. E chi ha vinto? Oh mio Dio. Ok. Ho capito chi ha vinto. Ma il combattimento è brutto. Rosso. Aveva il potere di cambiare il suo corpo. Wow. Che figata. Ma comunque non puoi essere bravo. Il prossimo. Io sono Benten. Wow. Ho guardato il tuo show quando ero giovane. Buono. Si trasformava in un mostro diverso ogni volta che toccava l'orologio. Aspetta. Questo orologio? Sì. Questa evoluzione è strana. Unne lasciami cambiare. Che cos'è? Il suo orologio si è guastato e lo ha trasformato accidentalmente in PB. Era bloccato nel corpo di PB per tutta la vita. Ok. Non sei una persona cattiva. Vai verso il bene. Aveva cento figli e mancava il poliziotto. Aspetta cosa? Cento? Questo è mio figlio. Ah. Questo è troppo figli. Amava mangiare le ciambelle. Lo adoro. Non posso biasimarti. Voleva distruggere il paradiso. Smettila di distruggere il paradiso. Stai andando male. Ah. E' stato facile. Il prossimo. F padre stava picchiando F figlio. Oh no. Non mi piace. Perché? Papà fermati. OMG hai visto questo? Brutto. Stavano mangiando alfabeto a cena. Anche questo è brutto. Mamma e figlio avevano paura del padre perché si arrabbiava molto. Molto velocemente. Non meriti il paradiso. Andate via. Grazie. Ok sono tornato sulla terra ma ora devo vendicarmi. Ehi. So che sei stato tu a fare tutto questo. Ah. Ah. Facciamo l'accordo. Quale accordo? M certo. Scivola qui. Se perdi andrai in prigione per sempre. Ma se perdo io potrai trasformarmi in un amico arcobaleno. Affare. Figlio. Prova prima. Ho paura. Ehi. Troppo veloce. Non è sopravvissuto. Il tuo turno. Cosa? Ai. Ce l'ho fatta. OMG. Ora controlliamo come lo fa Red. Come ha fatto? Tocca a me. Andiamo. È ora. È il mio turno. Lava o testa di Lucky. Lucky. Wow. Arancione. Ne voglio un altro. Figo. E il prossimo. Testa di Lucky o senza occhi. Testa di Lucky. Viso spaventoso o Lucky viola. Lucky viola. Lucky ciano o diventa grasso. Ne voglio un altro. Figo. Ho cinque Lucky. Sedia o macchina. Ovviamente macchina. Sono diventato un Lucky. Giallo o rosa. Giallo. Wow. Zaino. Ali o elicottero. Elicottero. Un dente o molti denti. Prendo molti denti. Due occhi. Prendo due. Testa da uccello o testa da robot. Sceglierò testa da uccello. L'ultimo. Coda da uccello o coda da volpini. Ovviamente sceglierò coda da uccello. Sono giallo. Ciano o giallo. Sceglierò il ciano. Wow. Zanna grande o zanna stretta. Stretta. Coda blu. Sceglierò blu. Testa di banana. Sceglierò testa di banana. Figo. Ok. L'ultimo. Occhi o senza occhi. Voglio rimanere con gli occhi. Wow. Ora sono ciano. Ragazzi. Ho una brutta notizia. Cosa mamma? Vostro padre. Amico rosso. È morto. No papà. Ragazzi. Per favore trovate il suo assassino. L'assassino aveva questa voce. Mostrami la tua voce. Non un assassino. Mostrami la tua voce. Ok. Non sei tu. È il tuo momento. Non tu. Ora è il vostro turno ragazzi. Ok. Non tu. Mostrami la tua voce. È il tuo momento. Tu non assassino. Ciao arancione. Mostrami la tua voce. Non sei un assassino. Mostrami la tua voce. One, two. Bacca my shirt. Ora è il tuo momento. Yippee. Non di nuovo tu. Ora toccate. Non lui. Mostrami la tua voce. Ragazzo spaventoso. Mostrami la tua voce. Controlla la tua voce. Ciao ragazzi. Mostratemi le vostre voci. Per favore. Mostrami la tua voce. Papi happy. Papi happy. Oddio. Sei un assassino. Bru. Per ottenere l'aggiornamento successivo. Scivola da questi scivoli. Ragazzi. Controllate la vostra altezza. Ok. Io sono il primo. Sei troppo piccolo. Adatta perfettamente. Entra. Il percorso verso lo scivolo. Diamoci un'occhiata. Ok. Prima giallo. Wow. Sto facendo un aggiornamento. Sono il prossimo. Fai. Oh no. Rosso. Wow. Sono l'ultimo. Aspetta. Ciano e Viola. Wow. Sembri fantastico. Per ottenere l'aggiornamento successivo. Vinci nella competizione di spaventi. Vai per primo. Oddio. Ti darò una B. Prossimo. Bello. Ma una C. Prossimo. Troppo divertente. Troppo F. Mi dispiace. Prossimo. Oddio. Ti darò una D. Il prossimo è la ragazza Lucchi. Così carina. Una B. Arancione. Una C. Rosa. Ti darò una B. Il prossimo è la ragazza Viola nella botola. Ti darò una D. Ok. Prossimo. Bello. Ti darò una B. Wow. Vediamo. Ti darò una C. Anche te. Ma senza il bus. Una B. Prossimo. Non mi piace. Verifichiamo il prossimo. Oddio. Una B. Bello. Prossimo. Bello. Blu arrugginito. Una C. Blu giallo. Una D. Rosso. Andiamo. Una B. Il prossimo è il ciano. Wow. Incredibile. Ti darò una A. Il prossimo è il giallo. F. Questo non mi piace. Il prossimo. Oddio. Ti darò una D. Marrone. Non male. Una B. Che bella ragazza. Wow. Anche una B. Rosso. La ragazza era migliore. Ti caccerò. F. Palla blu. Bello. Una B. La prossima volta è blu. Semplice. Ti darò una C. Il prossimo è verde. No. No. Una D. Mi dispiace. E la versione femminile. Mi piace. Una B. Giallo. Wow. Oh mio Dio. A. E. E l'ultima. Anche una A più. Siete fantastici ragazzi. Wow. Sento qualcosa. Anche io. Oddio. Bello. Ci siamo migliorati. Per ottenere l'aggiornamento successivo. Mostra tutti i volti degli amici dell'arcobaleno. Ok. Prima. E vediamo una foto reale. Bello. Oh nero. Non mostrare la mia faccia. Scusa. Lo farò io. Oddio. Prossimo. Bello. Bello vero volto fratello. Obama. Prossimo. Mio fratello. Oddio. No. Sì. Sì. Ah fratello. Cosa. Capellone nerda. Oh my gosh. Simile al vero. E l'ultimo. Oh nero. Non mostrare la mia faccia. Lo farò. Dovrei. Che diavolo. L'ho fatto. Sento qualcosa. Ho fatto l'aggiornamento. Bene. Ok. Ora devo scoprire quale è vero e quale è falso per fargli fare l'aggiornamento. Verificherò le vostre voci. Ok. Il primo. Non è falso. Oddio. Bravo. Ah che voce carina. Prossimo. Ok. Il prossimo. Non è falso. Verifichiamo la tua. Voce strana. Il prossimo. Non è un falso. Quattro sinistra. H.M. sospetto. Non è falso. Tu sei il vero. L'ultimo. O.M.G. sei falso. Ti elimino. Prossimo aggiornamento. Wow sembri perfetti. Bene. Ora ne sono rimasti unici. Ora controllerò tutti i loro jumpscaps. Il primo. Um. Non è un sospetto. Va bene. Andiamo avanti. O.M.G. bello non sei falso. Bene il terzo. O.M.G. è stato spaventoso. Ma tu sei reale. Bene. Bene il prossimo. Controlliamo il tuo. Sospetto. Bene. Il prossimo. Andiamo. Sono morto. E è stato strano. Il prossimo. O.M.G. pazzo. Sospetto. Il prossimo. O.M.G. wow. Ma non sei un falso. Prossimo. Bene. Non è un falso. Il prossimo. Strano. Ma il prossimo. Non è un falso. E ora l'ultimo. O.M.G. Sei falso. Va bene. Ce l'abbiamo fatta. È ora di fare l'aggiornamento. Wow. Sembri cool. Il prossimo passo. Ora devi fare dei disegni. Il primo. Non male. Il secondo. Va bene. Buono. Il prossimo. LOL. Che brutti disegni. Bene il quarto. H.M. Sospetto. Ah ma. Successivo. O.M.G. LOL. È strano. Il prossimo. Anche sospetto. Penso che tu sia falso. Andiamo avanti. Bello. Simpatico urso blu. E l'ultimo. O non è vero. O.M.G. Sei il falso. Mi dispiace ma ti elimino. Prossimo aggiornamento. Wow. Sembri cool. Ne restano nove. Ora ti muterò e vedremo cosa ne viene fuori. Sento qualcosa o non. Oddio. Ok. Il prossimo. Non un sospetto. Bene. Wow che enorme. Prossimo. Oddio. Che diavolo. Inferno. Ok. Il prossimo. Strano. Oddio. L'u difettoso. E l'ultimo. No. Non farlo. Mi farò una risata. Oddio. Sei falso. No. Sono reale. Ti eliminerò. Ok. Ce l'ho fatta. Bene. Bello. Ne restano. Ho il compleanno oggi. E devo vedere chi è reale e chi è falso. Lo verificherò tramite i regali. Andiamo. Il primo. Ehm. Questo non è l'amico blu. Oddio. Sei falso. Vai avanti. Oddio. Oh my gosh. Ok. Controlliamo il prossimo. Wow. Una torta. Mi piace. Ah. Oddio. Baby blue. Ok. Il prossimo. Oddio. È quello che farebbe l'amico blu reale. Ok. Il prossimo regalo. Oddio. Un mutante rosso. Prossimo regalo. Oddio. Ragazzi. Siete quelli veri. Prossimo regalo. Oddio. Che diavolo. E l'ultimo. Oddio. Oddio. Un gucci schibi. Falso. Ti eliminerò. Bene. Ne restano sei. Va bene. Ora controllerò i vostri jumpscares. Prima. Tu sei quello vero. Il prossimo. Strano. Ma va bene. Il prossimo. Sospetto. Successivo. Buono. Real. OMG bello. L'ultimo. Sei falso. Mi dispiace. Cinque sinistra. Ora dobbiamo vedere i vostri volti sotto la maschera. Fallo. Popcat. Va bene. Andiamo. Che diamine. Obama. Il prossimo. E l'ultimo. OMG. L'ultimo blu è falso. Dobbiamo eliminarlo. Lo brucerò. Va bene. Ne restano quattro. E vediamo il prossimo. Rivelazione del talento nel canto. Verifichiamo i migliori. Prima e poi. E l'ultimo. Be happy. Ok. Il secondo e l'ultimo sono i migliori. Rimangono solo due. Controlliamo gli ultimi jump stairs. Uno sarà falso. Vabbè. Ti amo. Qualcuno mi ha allungato. Mamma. Papà. Popcat mi ha trollato. Che cosa? Per favore non parlare. Devo imparare. Wow wow. Sono intelligente. Secchione. Secchione. Perché hai trollato tua sorella? Cosa? Mi ha fatto male. Non ero io. Non ti credo. Inizia a sollevare. Aiutami. Ah. Di note. Le mie ossa. Aiuto. Genitori. Dove sono? Guarda cosa gli hai fatto. Se perdi, sei fuori dalla nostra famiglia. Ma non ero io. Sei stato tu. Inizia. O me ha rubato il mio. Non può. Devo imparare. Wow l'ho fatto. Fammi imparare dove è il suo punto debole. Qui. Ah. Difficile. Cosa non piace ai King Kong? Vita. Facile. Vediamo come saltare più in alto. Bello. Sta arrivando. Godzilla. Ah. L'ultimo. Non può essere così. Per favore no. Non ero io. Davvero. Ti odio. Non tornare più. La note successiva. Sono troppo alta. Genitori. Sto chiamando la polizia. Sono così triste. Sei arrestato. Cosa? Non funziona. Dimmi cosa hai fatto. Non lo so. Come niente. Stai allungando la gente di notte. E' falso. No. Prigione. Sono troppo intelligente. Uscirò. Guarda. Ha perso la chiave. Facile. Facile. Veloce. Ahi. E' stato disgustoso. Sei troppo intelligente. Dove mi hai portato? Dobbiamo renderti stupido. No. Ti prego. No. Sono così stupida. Non so come camminare. Non può essere così. Devo imparare. Wow. Matematica. Ehi. Cosa? Abbiamo bisogno di te. E che? Cosa hai fatto? Mi dimetto da questo lavoro. Oh. Ok. Ok. Prima di tutto. Un. Non ho fatto niente. Oh my god. Ok. It's happening. OMG. Fratello. Vediamo cosa hai fatto. E' stato catturato mentre distruggeva edifici. Mostrami il filmato. Qui signore. Grazie fratello. Ridammi mio figlio. Mai. Dai ridammielo. No. Mi piace e sottoscrivi la casa uguale per questo bambino. Wow. Era triste. Stavi cercando di salvare tua figlia. Grazie. Ha bevuto la pozione ed è diventato verde. Aspetta. Questo è davvero brutto. Vai qui. Ha vinto un gioco di tiro alla fine con i calamari grazie ai suoi muscoli. Va bene. Sei libero. Bello. Il prossimo è difficile. OMG. Gru e i Minions. Cosa? Liberi. Lasciateci liberi. Ha rubato la luna. Questo è male. Usciva con le ragazze Minion. E.M. Questo è strano. Gruto. Cosa? Ha sganciato una bomba nucleare sulla terra. Aspetta. Questo è super cattivo fratello. E l'ultima cosa. Ha fatto uscire il virus dal balatono con il dottore. Aspetta. È vero? Sì. OMG. No. Ehi. Vai in prigione. No. Sì. Dammi la prossima. Il prossimo? Pibi. Cosa? OMG. Sembra un'immagine diciata. Lasciami in pace. Smettila. Vediamo cosa hai fatto. Stava creando i bambini. È ingiusto. Smettila di farlo. Ha un coltello in tasca. Stava scavando sotto la prigione. Hai scavato sotto la prigione? No. Prendetela. Ehi. Torna indietro. Mai. Per favore. Mio bambino è triste. Oh. È triste. Vieni con noi. Troveremo una casa per il tuo bambino. Ma tu andrai in prigione. OMG. Questo lavoro è difficile. Amici dell'arcobaleno. Ho sentito parlare di te. Io sono buono. Hai iniziato a sparare al supermercato. Wow. È troppo. Il prossimo Ato ha dato fuoco alla sua scuola. Fratello. Smettila. Questo è male. Il prossimo. Ha punito l'insegnante con un trucco orribile e i capelli bruciati. Sei cattivo. Vai nella tua cella. Sei libero per questo. Grazie. Finalmente. Devo imparare di più. Wow. È molto. Ok. Sono pronto. Genitori. Statisticamente è impossibile che sia tornato. Non mi importa. Torna quando sarai più forte. Ok. Ok. Devo allenarmi come un professionista. Wow. Sta funzionando. Ora il mio cervello dice di sollevare. Cominciamo. Wow. Il prossimo. Il prossimo. Guardami. Difficile. Ma funzionante. Ce l'ho fatta. L'ultimo. A lavorare come sempre. Perché ti sta facendo questo? Genitori. Ora posso risolvere chi sta facendo questo. Wow. Sì. Di notte. Ok. Ok bello. Dormire. E mi nasconderò qui. Sei dolce. È ora di prenderlo. Torna indietro. Ah, ti ho preso. Dove è andato? Sto entrando. Vieni qui. Dove sono? Ehi. È scappato. Vediamo cos'è questo. La vita dell'amico arcobaleno. Dacci i tuoi soldi ragazzo. No. Aiuto. Ehi. Fermati. Oh mio dio. Grazie. Vuoi essere la mia ragazza? Sì. Vuoi sposarmi? Mi prendo i tuoi figli. Troveremo i nostri figli. Non preoccuparti. Wow, questa storia era triste. Ma ho perso lui. OMG. Lei è così alta. Aiutami. È troppo. Sto richiamando la polizia. No, per favore. Non se ne parla. Il mio vecchio lavoro. Ciao, sono un uomo davanti alla finestra. Ha rotto le ossa ai bambini. Male, male, male. Si fermava davanti alle porte delle persone per ore e le fissava. E è strano ma va bene. L'ultimo. Si è sbraiato facilmente sotto il letto del bambino. Strano e illegale. Andrai in prigione. Il prossimo. Non c'è modo. Vieni qui Gargamella e i Puffi. Sì. Hanno attaccato la città dei piccoli Puffi. Fecero una zuppa di Puffi. Ha schiacciato le case dei Puffi con il suo chiede. Ok, sei una persona cattiva. Ma tu sei libero. Bello. Oh no. Jenna. Vieni qui. Smettila di baciare. Aiuto. Ok, vediamo. Aveva una cotta per PopCut. E ne mi sento strano a... Bene. Ha hackerato il computer di PopCut. Stava insultando in un gioco per bambini. Bello, bello. Vai in prigione. Puoi andare. No. Ah. È ora di risolvere l'ultima domanda. Ho lavorato su questo per così tanto tempo. E so come prenderlo. Ah. No, non l'ho fatto io. Siete arrestati. Ciao a tutti. Ti ho preso. Quindi ora devo giudicarvi. Ma prima. Wait a minute. Non ho fatto nulla di male. Are you sure about that? Aggrediva i bambini all'asilo. Truffava la gente per soldi. Non è un bravo ragazzo. Non mi interessa. Stop. Lui impiega illegalmente dei bambini per lavorare per lui. Dio mio. Sei una persona cattiva fratello. Prossimo. Prendevano i giocatori e li schiacciavano. È vero questo? No. No. Sì, lo era. No. È infemato. Cattivo. Creditavano le persone alla fabbrica. Bene. Cambiavano le persone in giocattoli. Molto male. Andrai in prigione. No. No. Oh no. Il giocatore è il prossimo. Sei stato in prigione? Sì, mi dispiace. Faceva il bullo a Ugi-Waki. Non bene. Mi dispiace. Questo è per te. Oh grazie. Questo è stato bene. Apriva le porte con il suo grab bag. Ha gettato papà e mamma Longlegs in una tritta carne. Non sei così cattivo. Sei libero. What? Oh no. Ok, solo due rimasti. What is that? Ciao, sono un mangiatore di treni. Attaccava i nemici ai binari e li faceva investire. Dio, era brutto fratello. Non bene, non bene. Mi dispiace. Vediamo il prossimo. Demoliva gli edifici. Perché? Non lo so. No, 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 no. fermati sei cattivo mangiava i bambini dopo averli presi sei super cattivo qui, è l'ultimo perché hai fatto questo? posso mostrarti, vuoi vedere la mia faccia? si questo è il mio amico, dio mio amo tua sorella poliziotto Barry, è finita per te sei sicuro di questo? si, andiamo guarda fino alla fine penso che sia ora ok, quindi questo sarà l'amico viola sono tornato con l'attrezzatura vedi questo ok, grazie sento qualcosa? wow, sto nascendo ok, devo scegliere denti affilati o condotti condotti mani corte o molto lunghe lunghe wow, sono alto non va bene guardare dalla finestra o dai condotti 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 o casa condotti, ovviamente non sembro un bambino normale niente gambe o gambe lunghe niente gambe calvo cos'è questo bambino brutto? mamma per favore smettila di dire così lo porterò per la ricerca ok, mostrami le tue abilità ok, ho l'opzione di saltare nel condotto wow, e ora posso afferrare le persone dov'è andato questo bambino? bene primo amico pronto ora ne servono altri ok, prossima famiglia rendi questo bambino più veloce ho bisogno di un lavoratore per la mia fattoria ciao, sono il dottore prendi questa pozione ok ok, devo scegliere corona o cappello corona wow, alto o basso meglio alto intelligente o stupido intelligente wow, essere blu o giallo blu al 100% grasso o magro grasso assassino o amichevole 100% assassino ah, è fantastico spaventoso o essere spaventato spaventoso cosa diavolo ok, usciamo di qui ah, un altro bambino per la mia collezione cosa? mi dispiace vieni piccolo deve lavorare per me 24 settimi blu mostrami le tue abilità va bene papà ti mostro dolcetto o scherzetto abilità di abbracciare wow, sono spaventoso vedo prossimo amico arcobaleno prendi velocemente la sua nascita voglio mangiarlo aspetta cosa vogliono mangiare i bambino cosa vuoi prendi questo mamma cosa dovrei scegliere fiona o sembrare un dottore dottore figo testa grande o senza occhi testa grande cos'è quello? sospetto o non sospetto sospetto oh no, sono sospetto spaventoso o essere rosso spaventoso sono cattivo bello o occhi strani occhi mangiare dalla spazzatura o bullizzare i bambini latte voglio del latte ah, eccoti qua vieni con me papà ho delle abilità speciali cosa? wow, solo altri due per il mio esperimento abbiamo un bambino meraviglioso che andiamo in prigione perché odio i bambini ok, questa è la famiglia perfetta ciao, sono il tuo dottore oh, ciao bevi questo mangiare cervelli o essere piccolo cervelli essere arancione um, non ho un bel aspetto va bene, prossimo aggressivo o pacifico aggressivo posso volare iai, faccia da gecko o piedi normali gecko no, 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 no mio dio sembro perfetto usciamo da qui cosa è questo papà, fermati oddio fratello fermati sei brutto mm, buon cibo vuoi essere mio papà sì hai un'ottima abilità grazie ma ne ho ancora una bello ne manca uno questa famiglia alta è perfetta è ora vedi questo sono il dottore va bene lingua lunga o shrek lingua la mia lingua mani sventolanti o mani semplici sventolanti le mie mani sventolano soldi o tre dita tre cos'è quello andiamo avanti verde o blu verde wow sembro fantastico ok abbiamo tutti i bambini metti mi piace e iscriviti prima dello spavento devo farti sembrare più grande ok papà prima il viola eh cosa sta succedendo qui andiamo wow funziona continuiamo prossimo ha rapito questi bambini non può essere così tre due uno ehi per favore lasciateci uscire ah la tua pozione è nascosta non la troverai mai ragazzi venite con me usciremo da qui andiamo saltiamo velocemente si saltate ragazzi ecco la prima pozione prendi questa l'ho trovato wow sembri fantastico andiamo avanti ce l'ho fatta ok questo è pericoloso lui è lì arancione vai a prendere la tua pozione ecco qua tornate bambini veloce oh credo che qui ci sia la prossima pozione controllerò questo bagno proverò il prossimo apriamo questo sei fortunato ecco le pozioni finali prendi questa ok sembri perfetto usciamo da qui ok siamo scappati dalla prigione è stato difficile ma possibile ho il loro indirizzo tempo di distruggere tutti voi andrete in prigione siamo chiusi di nuovo non può andare così papà non preoccuparti se usciremo prenderemo la prossima macchina e distruggeremo il poliziotto tempo di valutazione cosa? ah vediamo cosa hai fatto è finito in prigione per aver usato i bambini per attaccare Barry il poliziotto aspetta cosa? ragazzi attaccate questo è estremamente brutto no per favore è nato per essere l'amico arancione vuole evadere per diventare un mutante vuoi evadere? si no prossima persona spaventava i bambini dalla nascita alla morte perché fai queste cose? dai male è stato mandato in prigione da Barry il poliziotto si è innamorato in prigione della ragazza di Barry il poliziotto l'ogre ha fallo in amore con la princesa cosa? impossibile nanana oh ciao ehi ti piaccio si baciami malissimo malissimo lei lo ha aiutato a scappare e ora sono insieme cosa? vieni veloce grazie andrà in prigione mi hai rubato la ragazza ah ce l'abbiamo fatta prossimo era troppo alto per questo mondo era così alto che la sua ragazza vedeva solo i suoi piedi no stai mentendo no non lo sono era così alto che le sue gambe si spezzavano sotto di lui sta cercando di evadere dalla prigione per avere la prossima evoluzione spaventosa prossima persona che vuole evadere è brutto per me il prossimo non nasconderti ok chiedeva alle persone di dargli una mano e poi li afferrava nei condotti mostrami nanana questo non è giusto rosso cercava di mangiare ogni essere umano del pianeta oh no fermati ha iniziato a mangiare tutti e diventava grasso bene perché sono grasso anch'io è esploso dopo aver mangiato ogni essere umano del pianeta rimani in prigione è il mio turno sono stressato voi due siete cattivi cosa? oh no 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 oddio e siamo chiusi papà non può essere così se evaderemo avremo una nuova evoluzione ok fammi vedere fammi vedere aaaah posto segreto entra qui facile wow sei migliorato prossimo bello bello oddio guardalo prossimo verde oddio zombie arancione oddio cos'è quello ok penso che tutti siano usciti chiudiamolo ok andiamo a distruggere il poliziotto credo di aver dimenticato qualcosa ehi e io poliziotto Barry è finita per te sei sicuro di questo? sì andiamo oh my god ok chi abbiamo qui? alcune persone strane lascia che li valuti voglio essere il primo ha mangiato così tanti bambini che è diventato grasso costruiva prigioni e ci metteva dentro bambini buoni che non avevano mai commesso crimini era disgustoso e puzzava ok tutto mostra che sei una cattiva persona vai all'inferno cosa? no 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 wait 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 no era un bravo bambino ma è diventato un mutante a causa del rosso quando aveva incubi iniziava a crescere voleva mostrare il suo vero volto adesso aspetta il vero volto sì sembro così lanky box ok ma devo comunque metterti tra i cattivi no prossimo poteva correre attraverso il pianeta in meno di uno secondo voleva mostrare il suo volto anche lui il suo volto fu distrutto perché cadde da una scogliera ok mostrami il tuo vero volto wow bel volto vai dal bravo bambino prossimo dopo l'evoluzione è diventato super aggressivo era il migliore amico di Pennywise sotto la sua maschera c'è una persona bellissima ok sembra brutto vai al rosso ultimo faceva finta di essere un giocattolo nell'asilo era sempre il mostro più grasso del mondo voleva mostrare il suo volto ma aveva capelli molto lunghi guarda fino alla fine per vedere tutti i volti degli amici dell'arcobaleno questi sono i criminali più ricercati mostrami cosa hai fatto attaccava le persone nella vita reale troppo cattivo successivo entrava nello scivolo dal lato sbagliato aspetta l'hai fatto nella vita reale si è drammaticamente brutto stava saltando spaventando le persone nella vita reale smettila di spaventare con i salti e tu l'hai fatto nella vita reale si è troppo mostrerai la tua faccia è il momento della prima faccia io accanto ehi ha qualcosa di illegale mi dispiace prendilo stava rubando nei negozi è una cosa brutta vai in prigione era estremamente triste perché la moglie lo aveva lasciato era molto alto nella vita reale aspetta cosa significa lascia che ti mostri ah sembravi la persona più alta del mondo buono la sua intera famiglia è morta così è diventato una persona cattiva e uccide la gente questa è una pubblicità ma è comunque cattiva devo vedere la tua faccia no metti mi piace e iscriviti in 5 secondi per avere fortuna per tutta la vita ok un altro per favore lasciami in pace ho una famiglia oh questo è triste ma devo vedere se sei una persona cattiva era estremamente veloce come sonic wow non me l'aspettavo vai al bene prima di essere amico di rambi ha avuto più da pit non so questo ragazzo non è sus stava spaventando le cocchie nella foresta omg perché stai facendo questo perché non mi piace genna non può essere così ah 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 io l'hai uccisi ah 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 cattivo faceva sempre la pipì fuori dalla lettiera e è grave mi dispiace tutta la sua casa è stata inondata di acqua gialla oh mio dio entrare lì dentro è ora di vedere la faccia arancione ok è il momento dell'amico viola ciao fissava le persone attraverso il mirino delle porte cosa sono nella tua casa aspetta cosa stava catturando i bambini nelle sue prese d'aria per favore non ditemi che lo avete fatto nella vita reale mi dispiace prima di entrare nel costume viola era un bambino odiato o questo è triste ma non è male verde è stato sostituito da Pennywise questo è davvero triste spero che ti vada bene no non sto bene hai perso le tue emozioni per questo motivo è triste sì voleva vendicarsi di Pennywise non scivolerò mai su di esso è troppo spaventoso per me era bello ma in legge è brutto mi dispiace era accampato ai bambini sullo scivolo aspetta cosa scivolo spaventoso non voglio scivolare su di esso ma proviamo o no sento qualcuno sotto di me sei cattivo ciao ciao ora di vedere il suo volto prossimo rosso per favore lasciami in pace non posso mi dispiace stai mentendo salverò voi amici arcobaleno il mio uomo li prenderò guarda fino alla fine per vedere il volto dell'amico rosso o dove sono puoi aiutarci o penso di aver bisogno di aiuto vota questi viola e trasformali in giocattoli o no non voglio essere un amico arcobaleno stava dormendo sotto i piedi di uno chef male perché dormivi sotto il suo letto mi dispiace quando qualcuno chiamava ben alle 3 del mattino lui andava a casa di questa persona un mostrami questo mi dispiace ma giocattolo no diceva sempre no a tutto no 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 davvero no mi dispiace fammi vedere no oh non sei brutto io sono mio dio il prossimo per favore voglio essere io si nascondeva sempre sotto i bagni catturava i bambini che facevano la sfida delle 24 ore in Ikea quindi li uccideva mio dio impossibile sei una brutta persona mi dispiace vai al forno mio dio prossimo banana votali ok calmati aveva uno milione di fratelli che volevano aiutarlo non voleva essere trasformato in un giocattolo quindi cercava di scappare con lo scivolo aspetta sta cercando di scappare dove è? ti stai trasformando in un giocattolo sparare prossima persona slender amico rubava bambini era l'uomo più spaventoso del pianeta era più alto dell'amico verde aspetta non sembri alto ahahahah non sei più alto sei sicuro di questo? ok va bene sei libero e l'ultimo mi dispiace lasciami solo era sospetto era molto molto sospetto era ultra sospetto ultra sospetto mi dispiace sentiamo roccia no 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 oh my god oh sono stanco ok novellino puoi dormire poco grazie di notte mio dio penso che sia il momento devo togliergli la maschera ok andiamo ahah andiamo ehi andrà in prigione per sempre mi dispiace non uscirai mai oh mi ciao mi piace davvero oh carino prendi questo grazie chiave yay yay grazie vieni con me ora ok vieni qui sono tornata ragazza popcat nasconditi in fretta sta arrivando è strano mio dio wow sei fantastica grazie amico stanno ordinando è brutto andiamo vieni qui sei arrestato oh no oh no ehi vieni ad aiutarci va bene va bene torna indietro oh no mio dio sono scappati devo trovarli tutti e mostrare i volti che dolce cane ti vedo oh no vieni qui devo saltare da lui mai oh mio dio baciami oh mio dio sono così cattivo si torna indietro no non puoi vincere posso questo è difficile questo è difficile non difficile intendo non difficile prossimo salta ah ce l'ho fatta mostrami il tuo volto mio dio sei bellissimo prossimo è questo scivolo salvare si non voglio scivolare non puoi sono qui oh no scendi con me mai dai wow sono vivo il prossimo è il sole lo vedo qui durante la lezione indosso un travestimento ciao sono il tuo insegnante ciao insegnante ciao il primo shrek vieni alla lavagna per favore datemi a più umme faceva il bagno nella cacca aspetta cosa male faceva la cacca fuori dal bagno quando baciava la signora shrek puzzavano così tanto da uccidere le persone wow è troppo vai a f prossimo il mio turno uccideva le persone che giocavano con lei odiava essere una bambola così sparava laser ai genitori non si lavava mai le mani così erano nella cacca questa è una vita estremamente brutta mi dispiace f ah solo due rimasti amo goose si nascondeva dentro il bagno di tutti oh my god ha iniziato a chiamare ogni persona spaventosa alle 3 del mattino ha chiamato ben alle 3 del mattino aspetta perché stai facendo questo non lo so non puoi usare i telefoni durante la lezione vai a f ok l'ultimo ah vieni qui oh no ora è il momento di toglierti la maschera io cosa ah oh my god ah ti ho preso ora è il momento per i tuoi genitori tempo per l'ultimo volto non vedo l'ora andiamo lascia che ti tolga la maschera no siamo morti valuta quelle persone per avere la faccia rossa oh my god mio dio sono dio adesso pupazzo di neve si scioglieva e moriva a causa dei bulli no questo è troppo triste ah no no per favore no sta morendo sei buono vai in paradiso prossimo era un gioco popolare ma morì e dovette andare a scuola oh no questo è triste me lo ricordo mostrami il tuo volto ragazzo fnf mio dio veniva preso in giro da baldi le persone lo odiavano a causa della sua forma era grasso oh questo è triste vai in paradiso prossimo scappava dagli esami attraverso il bagno nelle fogne della scuola colpiva i bambini con il righello fino a farli piangere catturava la storia dell'alfabeto e li teneva nel seminterrato non so questo ragazzo è sospetto mostrami il tuo volto isho speed ok è l'ultimo ciao io sono rosso non mostrare la mia faccia mi dispiace ma devo ah 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 mmm the WWE prom the powerful Austin 3